Cari concittadini, ho una importante comunicazione da darvi, è stato attivato l'isolamento obbligatorio per un domiciliato nel comune di Arrone risultato positivo al Covid-19, quindi ad oggi è presente il primo caso ufficiale di Covid-19 anche nel nostro comune come in tanti altri comuni della nostra regione. La comunicazione mi è pervenuta dal distretto sanitario di Terni ed è stata mia premura avvisare immediatamente la comunità con questo messaggio e con tutti gli altri canali a mia disposizione. Sono stati già individuati i soggetti che hanno avuto contatto con questa persona e sono stati sottoposti ad isolamento. Il paziente non ha avuto contatti con la nostra comunità nei giorni scorsi. La situazione è monitorata dal sottoscritto, dalle autorità competenti e dai servizi sanitari, costantemente. È un momento difficile per tutti noi, il mio invito è di mantenere la calma e di rispettare le norme comportamentali. Restate a casa. Come sindaco mi sono il dovere di augurare una pronta guarigione a questa persona e oggi come non mai abbiamo bisogno di tutti voi.